Quando noi, noi del millennio precedente, eravamo giovani, si poteva sperare in un futuro migliore. Quando io avevo 15 anni, nel 1970 fu approvato lo Statuto dei Lavoratori. Una grandissima conquista sociale. Nello stesso anno, il divorzio. Erano idee di futuro. Non vi dico che l'anno prima eravamo andati sulla luna. C'era l'idea che potesse succedere in futuro qualcosa di meglio. Si poteva sperare in qualcosa. I partiti della sinistra, quale idea plastica indicavano? Il sol dell'avvenire. Perché nell'avvenire ci poteva essere una società migliore, più giusta. Oggi nessun partito, nessun partito vi parla di futuro. Nessuno. Guardate che questa è una rimozione clamorosa. Perché anche nessuno glielo chiede. Dice, ma scusate, voi come pensate che io tra dieci anni debba stare? Quali sono le conquiste che volete per me? I cambiamenti?